e si ad aprire la kermess di questa sera è Antonio Onorato buonasera Antonio, il microfono cosa ci fai a ascoltare? oi 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 la Antonio Onorato, oi oi la Il discreta è il discreta ma è stato ancora in mezzo che cresce in mezzo che cresce Si vuole amore, che spiangoroi di rioia, e qui c'è la mamma dove si trova amare, che spiangoroi di rioia, e qui c'è la mamma dove si trova amare. La mamma dove si trova amare, che spiangoroi di rioia, e qui c'è la mamma dove si trova amare. La mamma dove si trova amare, che spiangoroi di rioia, e qui c'è la mamma dove si trova amare, che spiangoroi di rioia, e qui c'è la mamma dove si trova amare. La mamma dove si trova amare, che spiangoroi di rioia, e qui c'è la mamma dove si trova amare, che spiangoroi di rioia, e qui c'è la mamma dove si trova amare. La mamma dove si trova amare, che spiangoroi di rioia, e qui c'è la mamma dove si trova amare. La mamma dove si trova amare, che spiangoroi di rioia, e qui c'è la mamma dove si trova amare. La mamma dove si trova amare, che spiangoroi di rioia, e qui c'è la mamma dove si trova amare.